Radio DGS l'informazione. Le notizie dalla Calabria e dal Tirreno Cosentino a cura di Radio DGS. La sanità in primo piano. Oggi alle 18 ad Amantea incontro con i sindaci del Tirreno per fare il punto sulla situazione del 118. La carenza di medici potrebbe portare a decidere per l'impiego di soli infermieri sulle ambulanze ma spaventare ancora di più è la possibilità che il servizio possa essere depotenziato tanto da dare l'affidamento ai privati. Da cetrare invece è prevista per mercoledì 15 maggio la riunione delle sigle sindacali per discutere dello Iannelli, un presidio che è stato ormai spogliato dei propri reparti e che vive in balia delle carenze di personale. Da Bonifati l'Associazione Nazionale dei Partigiani chiede che non vengano concessi ai militanti dei gruppi di estrema destra spazi per divulgare idee contro la democrazia. Nella nota si parla del comizio di Roberto Fiore tenutosi sabato scorso e che ha richiamato solo pochissimi militanti. Il leader di Forza Nuova non è stato da trattore se non per uno sparuto gruppo di militanti del movimento. Da San Nicolarcella Erika Ricchini consigliere comunale interviene sull'assegnazione della bandiera blu al comune tirrenico. Bisognerà fare rete perciò con le altre amministrazioni comunali per creare le condizioni per un turismo sempre più di qualità e con una stagione turistica che veda sempre di più allungare i suoi tempi di attività. Formulo perciò il mio auguri alla comunità sannicolese e dichiaro la mia disponibilità a sostenere tutte le iniziative sia dell'amministrazione comunale che degli operatori turistici che vanno in questa direzione. Sempre a San Nicolarcella si terrà sabato 18 maggio presso la sala consigliare del comune alle ore 17 e 30 la presentazione del libro L'Ape Furibonda di Romano Pitaro, Bruno Gemelli e Claudio Cavaliere. Oltre ai saluti dal sindaco Barbara Mele interverranno Rosangela Cassano, presidente dell'associazione Artemisia Gentileschi, Norina Scorza, Avvocato, Giuseppe Giudice Andrea e Giuseppe Aieta, consiglieri regionali, coordineranno i giornalisti Diletta Aurora della Rocca e Letterio Licordari. L'interpretazione dei testi è affidata ad Ambra Sassi. È tutto, grazie per averci seguiti.